Sport e solidarietà sono il binomio protagonista di queste edizioni dei mondiali di Costa Rowing, dove grazie all'impegno dei volontari dell'Avis e al personale sanitario dell'Asl, è stato possibile raccogliere le donazioni di sangue all'interno dell'autoemoteca posizionata sulla litorania di Barletta. L'Avis è stata la mia culla, ho iniziato a 11 anni a vogare nel gruppo sportivo dei canottieri dell'Avis, quindi è stata la famiglia che mi ha accolto e mi ha avviato a questa meravigliosa disciplina sportiva. Ricordo il professor Lattanzio, Enzo Buttari, Antonio Di Terlizzi, sono stati i miei maestri e per cui se oggi siamo qui a celebrare, a onorare questo campionato del mondo è perché l'Avis è stata Barletta la grande polisportiva che oltre a diffondere la donazione del sangue ha diffuso la mentalità sportiva in tutti noi barlettani. Dottore, lo sport fa bene, questo si sa, ma quando poi viene unito anche alla solidarietà, come con le donazioni del sangue, ha un valore aggiunto? È importantissimo coinvolgere la cittadinanza, poter collaborare con tutti gli sportivi a livello mondiale presenti oggi qui a Barletta ci rende orgogliosi. L'ospedale di Barletta e il servizio trasfusionale sono presenti insieme all'Avis proprio in una raccolta per aiutare la nostra cittadinanza. Lo sport fa bene, fa bene a noi, fa bene agli assistiti e ci aiuta a fare buona salute. All'interno dell'autoemoteca della Aslebat sono numerosi donatori che si sono alternati questa mattina, compiendo un atto che non solo salva le vite degli altri, ma può salvare anche la propria. Donare significa fare anche prevenzione grazie allo screening contestuale. Lo sport fa rima con vita con il valore aggiunto dalla donazione del sangue. Questo è un contesto meraviglioso che consente di veicolare al massimo in un terreno fertile la cultura dalla donazione di sangue. E chiaramente come sezione Avis di Barletta abbiamo inteso sfruttare questo momento, nel senso che si coniuga perfettamente il valore dello sport con il valore della solidarietà. E conseguentemente vogliamo lanciare questo messaggio al mondo intero, perché ci sono 45 nazioni, che la donazione di sangue è un momento di altissimo valore umano coniugato appunto nel contesto sportivo. Il nostro impegno è massimo. Io ringrazio sempre tutti i nostri donatori, le associazioni, perché ci aiutano in tutti i casi di estrema emergenza. Ricordiamo che c'è una necessità di sangue a livello regionale, a livello nazionale, ma sottolineo anche la necessità di plasma. Siamo in estrema carenza di plasma a livello nazionale. Noi quindi abbiamo indetto, e sarà un evento che si aprirà a breve, un Plasma Day. Avremo quindi una giornata dedicata alla donazione di plasma. I donatori sono importanti. Il nostro rapporto con loro è sempre costante, per cui ringraziamo tutti, tutti coloro che sono venuti oggi, ma anche tutti coloro che sono sempre a disposizione tutti i giorni della settimana. Io lo ricordo sempre, il centro trasfusionale presso l'ospedale di Barletta è sempre attivo dalle 8 alle 11.30 per le donazioni. Noi vi aspettiamo e siamo sempre a disposizione per qualsiasi consiglio. Grazie.